La mia mamma 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 Terza edizione del Cante Elvira, sette tappe, gastronomia, prodotti tipici e musica. Sì, siamo contentissimi, stiamo partendo, dall'altra parte del paese abbiamo iniziato a far partire i gruppi, ci sono tanti cori, c'è tanta roba buona. Dai, questa è una terza edizione, i numeri aumentano, siamo contentissimi, siamo contentissimi. Quali sono i prodotti tipici che ci sono? Abbiamo un po' di tutto, abbiamo un buonissimo frit gris, che è una pasta di patate con le erbe, abbiamo le miasse, buonissime, e di là ci sono i nostri miassatori che preparano queste sfoglie di farina di polenta, cotte su una piastra, sulla legna. Poi abbiamo le balocche di polenta, c'è un formaggio dentro che è la fine del mondo, buonissimo, buonissimo. Non soltanto gastronomia, ma dicevamo anche musica con i cori. Sì, 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 la nostra caratteristica è di non essere solo una sportiva, ma di essere anche un gruppo, un gruppo corale, quindi abbiamo numerosi amici che ci hanno accompagnato durante questi 37 anni di attività, e quindi oggi sono venuti a fare festa con noi, a divertire tutta la gente. Un evento organizzato non soltanto dai cantori salesi, ma anche dall'Unione Sportiva? Sì, io sono il vicepresidente dell'Unione Sportiva e insieme ai cantori salesi stiamo cercando di fare questo evento che sta rispondendo bene, infatti ci sono parecchia gente, ci sono parecchie persone che vengono anche da lontano e speriamo di riuscire e di continuare in questa cosa. Come è nato questo evento? Ma è nato un pochettino, è un richiamo a quello che c'è in questa valle, che in realtà tutto arriva da Castantino Nigra, Castantino Nigra che ha vissuto qua a Villa Castelnuovo e che praticamente ha fatto tutta una serie di studi e ricerche e sono nate tantissime canzoni, poi canzoni popolari in seguito alle sue ricerche. E allora una delle canzoni che richiama di più questo paese è proprio l'Elvira e l'Elvira è una donna che ha vissuto in realtà Castelnuovo Nigra, ma chi ha scritto questa canzone è vissuto a Cintano, che era colui che ha amato questa donna e comunque non corrisposto, però ha amato questa donna e allora ha scritto per lei questa canzone d'amore, anche un po' sofferente e da lì allora abbiamo deciso di dare una lode a questa meravigliosa canzone. Sì, appunto canta Elvira, che è scritto Elvira, quindi canta e gira sarebbe in qualche dialetto, è anche appunto Elvira il nome di questa ragazza che ha fatto innamorare Jacqueline Dalbrick. Oggi avremo anche il coro baolese Amerigo, e è lui che ha ricercato questo canto e l'ha reso famoso non solo in Canavese, ma è un canto amato ovunque, è stato portato, è stato cantato. Qui abbiamo anche una giovane rappresentante del piccolo coro dei cantori della Valle Sacra, tra poco ci riuniremo e canteremo delle belle canzoni di canto popolare. Questo progetto è partito sempre in collaborazione con la sportiva di Cintano, abbiamo iniziato con qualche canto di Natale e poi abbiamo proseguito, e insomma loro rispondono bene e ci fa piacere che dopo la ricerca del canto, la riproposta, adesso abbiamo anche un po' quasi la certezza di un futuro, di riprendere a cantare in valle. di tornare a cantare in una prima volta, di portare a cantare a cantare, di portare a cantare a cantare, di portare a cantare, di portare a cantare, di portare a cantare, Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.